Amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula Audio. Un podio di tutta qualità, di classe, di titoli, di piloti giovani arrimbanti e di vecchi maitomi e maipaghi di quanto ottenuto in carriera. Questa è la fotografia del Gran Premio del Qatar, prima edizione che sotto la notte araba ha visto Lewis Hamilton ripetere la vittoria di Interlagos e di accorciare ulteriormente le distacco su Max Verstappen. E dopo sette anni Ungheria 2014 con la Ferrari torna sul podio un giovanotto spagnolo con alle spalle esperienza al Dakar, IndyCar, due titoli con Toyota e due vittorie nella 24 ore di Le Mans. Nell'Endurance un tal Fernando Alonso che da tempo parla di questo piano, El Plan in spagnolo. Inizia con un podio sul tramonto di una stagione positiva per Alpine, visto che dopo la vittoria sempre in Ungheria di Ocon e la sua difesa che ha aiutato il compagno di squadra in quell'occasione, porta sul podio nuovamente il pilota di Oviedo, podio numero 98, che dà felicità al team Alpine che punta tutto, come tutti, sul 2022. Ma un fine settimana di polemiche, dopo settimane di polemiche, e purtroppo c'è da dire che se il pesce puzza dalla testa, non posso non dire che la FIA e la Formula 1 stanno gestendo malissimo tante cose. Veramente, dovrei usare termini un po' inoffensivi, no, forti, durei, come quelli che hanno usato in casa Red Bull. E non finisce qui, bandiera scacchi intendo, la vita di questo Gran Premio all'USAIL sulla pista catariota, perché Christian Horner è stato chiamato dai commissari per rendere conto di supposte o presunte ingiurie, ma naturalmente dal team Red Bull, dottor Marco in primis prima della gara, ovviamente non possono che uscire paroli pesanti, come escono a sottoscritto e a tanti, tutti quelli che stiamo seguendo la Formula 1 e che i vertici le stanno gestendo malissimo, è un eufemismo, decisioni risibili su tutti i fronti, commissari inclusi. E guarda caso oggi il via è stato particolare perché non potevano certo decidere. Ieri, dopo le investigazioni e i danni di Verstappen, Bottas e Sainz, misteriosamente non potevano decidere. E oggi, il mai visto, le penalità e le non penalità in relazione a Sainz arrivano un'ora e mezza prima della gara, in nessuna disciplina sportiva e soprattutto nel motosport, due, quattro ruote, categorie, questo è roba da direttante allo sbaraglio. Ma purtroppo è così, poco prima della gara, Max Verstappen viene penalizzato con cinque posizioni per non aver rispettato la doppia bandiera gialla ieri, Valtteri Bottas di tre e Carlo Sainz assolto perché nelle microparziali ha dimostrato di aver rallentato, come gli altri che avrebbero potuto essere sotto investigazione. E alla fine il primo conferma la pole position senza problemi. Luis Hamilton arriva forte dal Brasile, non monta la power unit nuova di Interlagos che si riserva per le ultime due gare decisive. Visto che a questo punto la vittoria di oggi, la numero 7 per lui, 102 in carriera come le sue pole, portano il britannico ancora più vicino a Max Verstappen, un mondiale aperto, combattutissimo, purtroppo relegato a due team e a due piloti, perché gli altri passano i giri in ogni Gran Premio, spariscono dagli specchietti, dai radar e alla fine, come oggi, vedete bene voi le Ferrari doppiate, le Ferrari che hanno chiuso 7 mottava, più indietro del previsto, nonostante Sainz fosse partito quinto, ma purtroppo ancora una gara negativa, o comunque, raschiando il fondo del barriere, quello che c'è a Maranello, e bisogna rimboccarsi bene le maniche perché continuare a vedere la Ferrari lontanissima doppiata. Non fa certo bene, tra l'altro, preceduta anche da Sergio Perez, partiva dietro, ha tentato le due soste e si è visto un po' penalizzato al finale di gara con il Vintual Safety Car per l'uscita di pista, anche qui altra decisione misteriosa, era in traiettoria ma lontanissimo dalla pista, pochi giri alla fine avrebbe potuto lasciar correre i commissari Michael Masi, mi verrebbe da aggiungere qualcosa, ma non lo faccio, e compagnia, invece no, Virtual Safety Car andava di rimonta con le gomme medie montate, mentre Alonso con Stroll e gli altri, una sosta sola, sono arrivati a fatica al traguardo, perché poi ulteriore protagonismo hanno avuto i cordoli della pista che hanno, col passare delle vetture, rotto, fatto forare le gomme a Valtteri Bottas, a Latifi e ad un altro pilota, chiaro non mi viene in mente, comunque sia per loro, rientro ai box alla fine, per Bottas è arrivato anche il ritiro, magari per avere la possibilità di montare pezzi immobili nella prossima gara, la penultima, Arabia Saudita. Grosso punto interrogativo dalle informazioni, dall'immagine arrivate oggi, pari che i lavori siano addirittura d'arrivo e, salvo sorprese, si dovrebbe correre per una gara che potrebbe decidere il Mondiale. 50 punti più 2 dei giri veloci a disposizione di chi voglia vincere. Oggi il miglior crono in gara è stato, dopo un batti e ribatti finale, se così vogliamo dire, con doppia sosta e gomme soft per Verstappen, per l'olandese. secondo, di rimonta, 5 giri e già dal settimo, era negli scarichi, anche se mai vicinissimo, di Lewis Hamilton, come era prevedibile, come andiamo dicendo da tanto tempo a questa parte, il pilota olandese non ha certo problemi come Hamilton, quando si tratta di superare vetture che poi alla fine cascano lontanissime. Il terzo, Alonso, un minuto, quarto, Perez, d'accordo, doppia sosta, più un minuto e due secondi, per non parlare degli altri. Ma alla fine protagonismo, oltre che Lewis Hamilton, che tiene vivo il Mondiale nella giornata di oggi, e qui vediamo quella che è la classifica in vetta, ma anche poi andiamo a completarla nel Mondiale Piloti, Hamilton che accorcia. Otto punti, 351 e mezzo per Verstappen, lo dicevamo, non bastano tre secondi posti nelle ultime tre gare, e oggi ha incominciato a inanellare il primo di questi secondi posti. Hamilton raccoglie 25 punti, visto che il punticino del giro veloce gliel'ha tolto il rappresentante dei Paesi Bazzi, e terzo Bottas, oggi 0-203, comunque autore di una partenza brutta, ha perso tante posizioni come Sebastian Vettel, poi però stava rimontando e avrebbe messo sicuramente in pericolo il podio finale di Fernando Alonso in gestione, il pilota spagnolo, protagonista di un avvio che lo ha visto sfilare, Pier Gasdi, che partiva in prima fila a causa penalità, però poi il pilota dell'Alfa Tauri si è un po' perso. Certo, sicuramente gli ordini di casa Red Bull, la famiglia delle bibite energetiche, che anche i colloqui con Helmut Marco a inizio gara ha fatto chiaramente capire che gli ordini erano quelli, non disturbare certo il manovratore, ovvero sia Max Verstappen che doveva rimontare e Alonso è riuscito con un buono spunto a superarlo nelle prime curve. Buona l'azione dell'Asturiano che da lì si è rinfrancato poi e ha portato a termine un fine settimana felice per lui, un quarantenne che tornava questa stagione in Formula 1 che ha centrato il novantottesimo podio con un Alpine performante in questo fine settimana velocissimo e a dimostrazione anche la gara di Estebano con Quinto. Buoni punti, un 25 a 0 verso l'Alfa Tauri, purtroppo uno schiaffo al team di Faenza oggi e l'Alpine si conferma più che mai quinta a 137 punti con l'Alfa Tauri che resta a 112. Anche perché Tsunoda che partiva nella top ten non è riuscito a mantenere quanto di buono fatto vedere ieri e deve ancora maturare il giovane pilota nipponico. Lance Stroll e Sebastian Vettel portano entrambe le Aston Martin nella top 10, un circuito di motore, guarda a casa, oltre alle due Mercedes anche, le Aston Martin sono motorizzate Mercedes, un Vettel che all'inizio è sceso per un errore in fondo alla Plotone ma poi cammin facendo è rientrato nella top ten e vedere Vettel appunti insieme a Alonso Apoglio, Hamilton dimostra che i grandi vecchi vecchi manici sono lì, combattono e danno filo da torcere ai nuovi arrembanti. Max Westappen che comunque conferma questa grandissima stagione che lo pone in lotta a due gare dal termine per il titolo di campione del mondo e come dicevo 546 e mezzo al 541, i due piloti Red Bull oggi consentono alla marca austriaca di accorciare le distanze in confronto a Mercedes, visto che solo Hamilton ha portato a casa un buon risultato, punti, ma la vittoria soprattutto, che come detto tiene aperto un mondiale combattutissimo, là davanti, là in alto, tra Hamilton e Westappen e quindi ci attendono due gran premi in terra araba, araba saudita, Jedda e Abu Dhabi in quel degli Emirati per sciogliere il nodo irridato, sciogliere il discorso mondiale e vedere chi tra Luis Hemmert e Max Westappen si aggiudicherà questo combattutissimo campionato del mondo di Formula 1.